Gesù è il centro dito del mangelo, è la nostra fede. Solo lui ci offre la via per la salvezza e con la sua umiltà di servo si pone tra noi e il Padre come mediatore ludico. Per questo Gesù è stato progettivo per il mondo. Il suo amore ha sostituito il nostro mancato amore per il Padre. La via dell'arcoce oggi viene proposta anche a noi perché è il cammino da percorrere per il cristiano a limitazione di Cristo. La via dell'arcoce oggi viene proposta anche a noi perché è il nostro mancato amore per 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 il nostro mancato amore. Gesù è il nostro mancato amore per 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 il nostro manc Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi bene, sappiamo che tante volte noi ci rivolgiamo al Signore gli facciamo domande, rivolgiamo a noi in preghiere, in vocazioni gli presentiamo dubbi, certezze, perplessità questa mattina il Signore del Vangelo è Lui a porci delle domande il Signore questa mattina ci mette in difficoltà, ci pone dei quesiti e noi chiediamo perdono nel cominciare, nell'iniziare questa celebrazione per tutte quelle volte in cui non abbiamo risposto per quelle volte in cui abbiamo fatto retina mercante per quelle volte in cui il cuore non era abbastanza aperto per fare adentrare il nostro Dio e quindi chiediamo un perdono per chi possa ancora una volta essere sì la nostra risposta alla sua proposta confesso a Dio in volente e a voi in preghiere che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni per la mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata e sempre Vergine Maria gli Angeli, i Santi e voi lo pretevi di pregare per me, Signore Dio nostro Dio nepotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita libera Signore Pietro Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà Gloria a Dio nell'alto dei Cieli e pace interna ai nomi di buona volontà noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorificiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente Signore, Figlio del Genito, Gesù Cristo Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo, abbi piedà di noi Tu che togli i peccati del mondo, accogli la vostra supplica Tu che sieni alla destra del Padre, abbi piedà di noi Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore Tu solo è l'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, amico Preghiamo O Dio che hai creato il governo dell'universo Fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia Per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio del Dio E vive il Regno con te, nell'unità della Spirito Santo Per tutti i seri e coni dei secoli Nella liturgia di oggi le letture si risortano a crevere in Gesù Ad avere fede perché è dono di Dio E ci aprono alla decisione di riconoscerlo negli altri Soprattutto nei poveri e nei dissonuti Tutti noi siamo figli di Dio Per cui siamo abitati all'ascolto della parola Per cui rendiamo la nostra vita gradita al Dio E aperta e cadere La missione più importante del servizio di Cristo È rinunciare a se stessi Saper prendere la sua voce E così perdere la propria vita a causa sua e del mandello Da libro del profeta Esaia Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio E io non ho posto resistenza Non mi sono tirato indietro Ho presentato il mio dorso ai fragegatori Le mie guance a coloro che mi strappavano la barba Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli scuti Il Signore Dio mi assiste Per questo non resto svergognato Per questo rendo la mia faccia dura come pietra Sapendo di non restare confuso E vicino chi mi rende giustizia Chi userà venire a contesa con me? Affrontiamoci Chi mi accusa si avvicini a me Ecco, il Signore Dio mi assiste Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio Camminerò alla presenza del Signore Nella terra dei viventi Amo il Signore perché ascolta Il grido della mia preghiera Verso di me attesso l'orecchio Nel giorno in cui lo invocavo Mi spingevano funni di morte Ero presso dei lacci degli inferi Ero presso di tristezza e amore Allora ho invocato il nome del Signore Ti prego, libero il Signore Camminerò alla presenza del Signore Ero presso di tristezza e amore Ero presso di tristezza e amore Fiatoso e giusto è il Signore Il nostro Dio è misericordioso Il Signore protegge i piccoli Ero misero e mi ha salvato Camminerò alla presenza del Signore Si, hai liberato la mia vita dalla morte I miei occhi dalle lacrime I miei piedi dalla caduta Io camminerò alla presenza del Signore Nella terra dei viventi Camminerò alla presenza del Signore Dalla lettera di San Giacomo Apostolo A che serve, fratelli miei Se uno dice di avere fede Ma non ha opere Quella fede può forse salvarla Se un fratello o una sorella Sono senza vestiti E sprovvisti del cibo quotidiano E uno di voi dice loro Andatevene in pace Riscaldatevi e saziatevi Ma non date loro il necessario per il corpo A che cosa serve? Così anche la fede Se non è seguita dalle opere In se stessa è morta Al contrario uno potrebbe dire Tu hai la fede E io ho le opere Mostrami la tua fede senza le opere E io con le mie opere Ti mostrerò la mia fede Parola di Dio Grazie a tutti Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Quanto a me non ci sia altro vanto Che nella croce del Signore Per mezzo della quale Il mondo per me è stato crocifisso Come io per il mondo Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso il villaggio intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo la gente è chi dice che io sia ed essi gli risposero Giovanni il Battista altri dicono Elia ed altri uno dei profeti ed egli domandava loro ma voi chi dite che io sia Pietro gli rispose tu sei il Cristo mi ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcun e cominciò ad insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani dai campi dei sacerdoti dagli iscrivi venire ucciso e dopo tre giorni risuotere faceva questo discorso apertamente Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo ma egli voltatosi guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro e disse va dietro a me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini convocata la folla insieme ai suoi discepoli disse l'oglio se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vuole salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà parola del Signore alleluia 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 Siamo abituati a pregare per una situazione Siamo abituati a pregare per qualcosa che ci turba O qualcosa che ci rallegra Per cui vogliamo ringraziare Dio Questa mattina il Signore ci fa due domande La prima domanda è questa La gente, chi dice che io sia? Ecco, questa potrebbe sembrare una domanda quasi a modo di pettevolezza Cosa dice la gente di me? Che cosa pensano gli altri? Noi in queste terre sappiamo bene cosa può volere dire Tante volte siamo preoccupati di quello che pensano di noi gli altri Ma Gesù non è di questa risma Non è di questa tipologia di persone A Gesù non importa tanto cosa dice la gente di lui Per capire che pettevolezzi girano sul conto dell'ultimo profeta Che si trova in terra di Israele Più che altro Gesù sta chiedendo E lo chiede anche a lei questa mattina Ma la gente come crede in Dio Perché vedete ci sono dei periodi della nostra vita In cui la nostra fede è sublime Dei momenti della nostra vita In cui la nostra fede ci fa camminare Come su un tappeto di nuvole O di nuvole come di un tappeto Ci sono dei momenti della nostra vita In cui noi siamo a cuore aperto davanti a Dio Ci sono delle stagioni Della nostra esistenza In cui noi basta girarci E ci sentiamo in pace con il mondo Dice una canzone di Elisa Bastava soltanto fare un passo per raggiungere la felicità Quando questo abita nel nostro cuore Quando la vita nostra è abitata dal Signore Siamo nella pace Siamo nella gioia Ed è tutto facile Tutto tranquillo Tutto sereno Ma ci sono dei momenti della nostra vita In cui la nostra fede ci abbandona E noi ci sentiamo aridi E noi in Dio Più che crederci Iniziamo a debitarne Di questa possibilità Di questa esistenza E la nostra fede comincia a vacillare E ci sono dei momenti Della nostra storia Forse anche familiare Di momenti anche della nostra vita in pubbia In cui noi questa pace non la sentiamo Ci sono dei momenti In cui ci sentiamo spenti E la nostra fede non solo vacilla Ma a volte scompare definitivamente E allora il Signore ci chiede Ma la gente è attorno a te La tua comunità La tua famiglia In che modo crede in Dio Questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo Questo Dio così assurdo Che continua la nostra Chiesa a proporre La nostra comunità Mio marito, mia moglie, i miei figli I miei genitori, i miei ripoti I miei amici Quelli che mi circondano Quelli che mi erano con me Ma fosse anche la persona Che sta seduta adesso accanto a me Come crede in Dio In che Dio crede? In un Dio che giudica In un Dio misericordioso In un Dio che è forte e potente In un Dio come quello di Edil In un Dio in cui siamo noi Dove essere presentato e reso vivo In questa nostra storia Perché il Signore ci invita a credere Come la Chiesa Una santa cattolica e apostolica Perché a volte noi Non ce la facciamo da soli E allora la nostra fede si sostiene Sulla fede degli altri La nostra fede continua a rimanere in piedi Perché c'è qualcuno Che come in una guardata Come in una scalata Riesce a non cadere nel precipizio Perché c'è qualcun altro che la sostiene Rimanere appesi ad un chiodo Rimanere appesi ad una fune E non morire soltanto perché c'è la nostra Chiesa A che serve questa Chiesa? Molti di noi dicono Io credo in Dio Io credo in Gesù Padre, figlio e spirito santo Forse è figlio Gesù Io credo nei suoi insegnamenti Ma non credo nella Chiesa Perché questa Chiesa è così pesante Ci sono persone così insopportabili Ci sono persone così abitte Ci sono dei predi così antipatici Ci sono, ci sono, ci sono Ma la nostra fede in certi momenti Si sostiene soltanto perché c'è la nostra Chiesa Perché se davvero dovessimo voler contare Solo su noi stessi Se continuiamo a dire Che noi siamo migliori degli altri E qualcuno lo fa Senza rendersi conto Che in realtà sta già crollando giù da Dio Ecco, Gesù ci sta proponendo questa mattina Ricordati Cioè riporta al cuore Che la tua fede non basta Che la tua fede da sola Non risolve nulla Perché ci saranno dei momenti In cui comincerai a scivolare Su quella parete E se non c'è qualcun altro Che la sostiene Tu sarai già morto E poi una domanda la fa E la fa ancora più a fondo Perché certamente abbiamo bisogno della fede degli altri Ma qualche volta dobbiamo renderci conto Che il Signore parla a noi direttamente Ma tu Chi dici che io sia? Qual è la tua fede? Tu in che cosa credi? Ma tu davvero credi in Dio? Ma tu davvero credi che tutte quelle persone Che adesso sono già Oltre questa vita Sono quelle che incontrerai un giorno? Tu davvero credi? Che con tutta la buona volontà che abbiamo Visto che moriremo tutti quanti Noi che siamo presenti qui Lo sai che un giorno ci sarà Di una risurrezione Lo sai che un giorno ci sarà qualcosa di nuovo Che si presenterà davanti a te E ti sconvolgerà tutte le carte in tavola Tutto quello che hai pensato e immaginato Sarà diverso in qualche modo E allora la tua fede Tu chi dici che io sia? E Pietro mi esplode Dici tu sei Cristo Tu sei il mio Dio Tu sei colui che mi risolleverà Ogni volta che cadrò Ogni volta che mi sembrerà Di non sentire più nulla Ogni volta che sentirò l'eredità Con la mano di un fratello Con la mano della mia chiesa Della comunità Della mia famiglia Che a volte non è soltanto da sostenere Ma è anche il nostro sostegno Ci riporta in vita E come facciamo a dire che abbiamo fede? Come faccio a dire io? Io ho fede Io ho una fede forte Io sono bravo Io ci credo veramente in Dio E in questo ci viene in aiuto Il grande San Giacomo Sapete Se voleste approfondire questo argomento C'è stata una diatriba Fortissima Tra i paolini Tra coloro che appoggiano C'è una teoria Che è un po' sottolineata San Paolo E quella di San Giacomo San Paolo diceva La fede risolve tutto Nonostante tutte le opere malvagie Che tu farai Mettrai in atto Però tu basta che cede E si risolve tutto Basta crederci A volte diciamo che lui Basta crederci San Giacomo Però Forse a volte in questo Non ti siano in contrapposizione Evidentemente Ma hanno sottolineatura E sfumatura Che mi sento di Assecondare In maniera più forte San Giacomo In maniera praticissima Seguicissima Dice Mostrami La tua fede Senza le opere Ed io Con le mie opere Ti mostrerò la mia fede Vedete Tante volte Le persone che Tra virgoletti Non vengono in chiesa Le persone che In qualche modo Non frequentano Hanno una vita Molto più santa Della nostra Vedete Tante volte Ci sentiamo anche In difficoltà Perché Ci dicono Tu vai in chiesa Ti batti il petto Ti Vai a mettere Davanti all'altare Ma in realtà Sei peggiore Di tutti Scusate Sei peggiore Di tutti gli altri Mettandoli in voglia Sessica Sei peggiore Degli altri A che ti serve Venire in chiesa Se poi La tua vita Non corrisponde A quello che dici Dici di credere in Dio Ma in realtà Dimostra Fammi vedere Ecco questa mattina Che il Signore Ci dice La tua fede Si traduce Si trasluce Nelle tue opere Dimmi Le tue scelte Dimmi La tua vita Com'è Dimmi Quello che vivi Ogni giorno Dimmi Le scelte Che hai fatto Quello che hai Sperimentato Come tratti Le persone Che hai accanto Come Ti interfacci Con tutti Coloro Che ti circondano Ma non solo Con la tua famiglia Anche con coloro Che sono attorno Gravita Attorno al tono Come vivi Io ho fede Io ho fede Ciascuno di noi Ha veramente fede Se questa fede Ha a che fare Con la vita Troppe volte Diciamo di credere Frequentiamo anche L'Ulisalve Magari facciamo Pelegrinaggi In tutte le parti Del mondo Magari Si freghiamo La Madonna E tutti i santi Ogni istante E poi La nostra vita Non c'entra Nulla Con il Vangelo Ecco Questo E' uno scambolo E San Giacomo Se ne era accorto Mostrami La tua fede Che non ha opere Mostrami La tua fede Che non ha a che fare Nulla Con la vita Ed io Con una vita Di una persona Semplice Magari Di uno che non ha Tanta istruzione Ma che fondamentalmente Ha a che fare Con il Vangelo Perché le sue opere Sono E' un genio E allora Concluio Con le parole Di Isaia Della prima lettura Isaia Quasi Sembra Montan Caprille E dice Venga a me Si presenti Chi vuole combattere Contro di me Affrontiamoci Affrontiamoci in due Mettiamoci a combattere Sta parlando con il male Se davvero Dio Ho fede La mia fede Si vede nelle opere E questa fede Sostenuta dalla Chiesa Cioè da tutti coloro Che sono accanto A me Credono con me E mi sostengono Quando non ci crederò più Allora La mia battaglia Contro il male Ha davvero Speranza Allora L'augurio Per tutti quanti noi E di avere Una bella fede Una fede straordinaria Che ha perduto a che fare Con la vita E che questa vita Possa essere sostenuta Dalla fede di altri Che certo Saranno perfetti Certo Saranno Anche a volte Un po' Ignoranti Cociuti Come da un pietro Ma che fondamentalmente Dice a tutti noi Che possiamo Combattere Con il male Mi piace sempre ricordare Questa piccola Massima Di cui non conosco Bene Ai bambini Si racconta Se i draghi Non per dire loro Che esistono Perché i bambini Lo sapranno già Che questi draghi Esistono Ma si raccontano Le favole Con i draghi Perché Si racconta loro Che questi draghi Possono essere sconfitti E allora Noi parliamo del male E di questo nostro combattimento Non per dirvi Che il male c'è Tutti quanti noi Lo sappiamo già Che il male c'è Ma per raccontare A tutti quanti noi Che il male Può essere sconfitto Non da soli Della nostra chiesa Con il nostro Signore E allora che questa speranza Possa realizzarsi Con i suoi tempi E con i nostri voti Amen Grazie Credo In un solo Dio Padre onnipotente Creatore del cielo E della terra Di tutte le cose Visibili e invisibili Credo in un solo Signore Gesù Cristo Origenito Figlio di Dio Nato dal Padre Prima di tutti i segni Dio è da Dio Luce è da luce Dio è da Dio E generato E creato Nella stessa sostanza Del Padre Per mezzo di Lui Tutte le cose Sono state create Per noi Per la nostra salvezza E per opera Dio Spirito Santo Si è incarnato Nella stessa Della legge Di Ammina Il segno a Dio E salito E lì sopra noi Sono segnato Morì E il segno Il terzo giorno E il risuscitato Il secondo E il segno E salito al cielo Siede alla destra Del Padre Che di nuovo Errà nella gloria Per giudicare I figli E i morti Nel suo regno Non avrà fine Credo Nello Spirito Santo Dei Signore E dalla vita E procede Dal Padre E dal Figlio E con il Padre E il Figlio È adorato E glorificato E ha parlato Per mezzo Dei profeti Credo La Chiesa Una La Chiesa Nella loro vita Siano capaci Di capire Che la sofferenza È grande In superficie Per l'uomo Preghiamo Ascolta Il Suo Padre In questa celebrazione Preghiamo Per tutto il popolo Preghiamo Ascolta Il Suo Padre Tiriamo qualche istante In silenzio Ciascuno di noi Ha una preghiera L'intenzione La può presentare A Dio In questo Momento Di assenza Di parole Perché la parola Possa abitare E Si può Giornare La Paglia Preghiamo Ascolta Il Suo Padre Tutto noi Dividiamo Il Cristo Il Tuo Figlio Il Nostro Signore Potete Accomolarvi Una notte Il Suo Padre E Sì Chiornare Il Suo Padre Si è Giornare Il Suo Padre E Il Suo Padre Devevi Fuote Ma La Paglia Il Suo Padre Grazie a tutti. 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 E' veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnico Dente ed Eterno, per Cristo Signora nostra. Nella sua misericordia per noi peccatori si è degnato di nascere dalla Virgine, morendo sulla croce si è liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezza si è donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, mi dia gli angeli e i miei santi, cantiamo con noi a l'Hinno della Dura. Santu, 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 Santu. Santu, Santu, Santu. Santu, 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 Santu. Santu, 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 Santu. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatore, per mezzo di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere i santiti dell'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo in me, manda il tuo Spirito a santificare le donne che confriamo, che diventino il corpo e l'esampo di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, che ci ha comandato a celebrare questo mistero. Nella notte in cui fu tradito e egli prese i pani e prese i grazi, gli dicevano la visione di uno spezzolo, diede ai suoi discepoli e disse, prendeteli e mangiateli, questo è il mio corpo, perdo il sacrificio per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.